Buonasera, buonasera a tutti, siamo sempre su Radio Triglia Sound. Stasera è una serata speciale, infatti sarà un appuntamento speciale con un amico, un amico che ha viaggiato, ha passato delle giornate intere nei boschi, sui monti, per passione e hobby. E questo dice tanto, anche perché secondo me chi lo fa sempre per passione vive delle situazioni molto diverse rispetto a farlo per lavoro, certe volte. Parleremo stasera, come c'è scritto sotto, con Paolo Rossi, fotografo di lupi. Si rifinisce così perché, come ripeto, lui ha passato anni a fotografare lupi, a seguirli e a parlare con persone e capire il lupo cosa fa, chi è e come si comporta. Io direi di fare entrare Paolo, così ci spiega un po', e poi andiamo avanti nella trasmissione. Eccolo qua. Ciao, ciao a tutti. Ciao Paolo. Grazie di essere con noi qui stasera. Grazie a te. Grazie a voi. È una cosa che volevo fare, ma perché, come dicevo prima, ultimamente si parla molto di lupi, no? Sì. Dei loro comportamenti e delle loro azioni. So che tu fai il fotografo, quindi non sei un naturalista o comunque uno studioso, però sicuramente in questi anni li hai conosciuti e hai conosciuto molto quelle che sono le loro abitudini. Assolutamente sì. Iniziamo un po'. Perché sono sempre stato curioso. Perché io ti vedevo, mi ricordo, con una mega macchina fotografica, la tenda, passare delle giornate proprio immobile sui rimonti, come mai ti è venuta questa passione? Allora, diciamo che quando ho iniziato a cercare i lupi, chi li studiava all'epoca, persone molto in gamba, intorno al 2005-2006, giù di lì, gli studiosi li studiavano, raccoglievano gli escrementi, studiavano la dieta del lupo, ma in pratica non vedevano mai i lupi. Quindi io mi sono approcciato a questo mondo con una tesina sul lupo di Quinta Superiore all'Agraria di Sant'Ilario, la scuola agraria, intitolata Il ritorno del lupo sull'Appennino Ligure. Intervistai cacciatori, allevatori, studiosi, biologi che mi raccontarono con grande disponibilità e il loro parere, il loro studio e il loro lavoro connesso anche al lupo. E da lì, però invece di prendere e di seguire il percorso universitario come vorrebbe, diciamo, il sentire comune, ho voluto concentrarmi sul vedere un lupo e incontrarlo. Da lì poi è passato non molto tempo che ho deciso di imbracciare una macchina fotografica in modo da immortalare quel momento che attendevo e che cercavo da tanti anni. Quindi in mezzo c'è stata una grande gavetta che è stata fatta anche nelle rubare segreti a bravissimi ricercatori di lupi come la grande Laura Schenone che da noi sull'Appennino Ligure ha fatto la storia in quanto a studiare e capire quanti lupi c'erano e dov'erano. E da lì ho iniziato a fare sempre appostamenti sempre più lunghi, soprattutto all'alba e al tramonto e a imparare che di lupo non ce n'è solo uno, come in tanti raccontano, magari anche una parte del giornalismo, ma di lupi ce ne sono tanti e chi li studia, chi li fotografa, ma anche chi non vuole avere, subire attacchi domestici, cioè sui propri animali domestici deve diventare umile, capire che i lupi sono tanti e che sono animali che si adattano e noi dobbiamo adattarci a loro. Ok, tanto che parliamo inizierai a far vedere una foto che è vecchia ma è attuale, nel senso che l'ambiente è un po' quello di questi giorni. Questi giorni c'è neve in alto. Sì, assolutamente. E tra l'altro mi trovo anche con le sirene qui fuori che fanno da colonna sonora che ricordano anche un po' gli ululati, se vogliamo, in maniera molto meno poetica. E questi lupi probabilmente li avevi incontrati anche tu, o comunque avevi avuto anche tu da fare o comunque esperienza con questa particolare famiglia, che erano dei lupi meravigliosi che si muovevano in quegli anni sulle alture di Torriglia e di fatto fu uno dei miei primi incontri con i lupi, era il 2010 circa e in ogni caso fu proprio il primo incontro che riuscirei a immortalare con la mia macchina fotografica, che in realtà è una macchina fotografica tutt'oggi che è un po' limitata rispetto ad altri fotografi, perché ho sempre delle ottiche corte, 70-300 al massimo e cerco sempre di essere leggero perché, come dicevi tu, mi porto spesso anche tenda, bagaglio e mi piacciono anche foto di questo tipo, nel senso quelle un po' distanti da quelle che abbiamo visto in tante riviste, magari patinate, e sono foto invece in qualche modo piene di poesia per quello che mi riguarda. Questa famiglia, perché c'è stato un periodo che c'era una femmina zoppa, giusto? C'era qualche... non so se è questa. Sì, sì, è una famiglia che dall'interno c'è anche una femmina zoppa che aveva problemi a una zampa posteriore, se non sbaglio tra l'altro i tecnici del Parco dell'Antola ai tempi avevano dimostrato che nonostante questa grave invalidità sopravviveva e dava la luce anche ai piccoli, credo anche per più di un anno si è riuscita a dare la luce ai piccoli e questa foto dimostra questo anche perché ci sono i due adulti, il maschio e la femmina adulti e tre giovani che giocano intorno a loro, quindi proprio nati dalla femmina. Uno dei giovani ora è fuori in quadratura, se ne vedono solo due, fu un momento emozionante perché i lupi mi diedero di fatto una distanza di sicurezza. Io non mi avvicinai a loro e loro si fermarono sul crinale, gli adulti mi fissavano e mi potevo godere al tramonto, un freddo tramonto invernale, i giovani che si inseguivano, giocavano, interagivano e gli adulti che mi tenevano sotto osservazione, poi la nebbia li ha piano piano ingoiati, diciamo così. Cosa provavi a stare delle giornate in cima a dei monti, sotto la tenda oppure comunque ad aspettare? Ma in realtà la parte iniziale del mio lavoro è stata, diciamo, tesa, non naturalmente nelle paure di essere mangiato da un animale selvatico come molti hanno, ma problemi legati al stare da solo, come dici tu, nel senso al di là del freddo, al di là di essere lontano dai paesi, proprio il fatto di stare da solo, in silenzio e quindi avere a che fare molto con le proprie pensieri, le proprie ansie ed è stata la fase iniziale un po' difficile da quel punto di vista, quindi mi sono dovuto abituare a stare nel bosco esattamente come ci si abitua di fatto a stare in un appartamento, poi in realtà nel senso che hai un primo momento di disagio e poi ti abitui e ti inizia a godere quello che hai intorno, ben conscio che di pericoli, di fatto ce ne sono pochi, forse meno di quelli che possiamo trovare in città. Questa è un'altra bellissima foto, qui cambiamo ambiente, dove siamo qua? Qui è una zona dell'alta Val Trebbia più lato Rovegno, diciamo così, siamo all'interno di un ginepraio, eravamo intorno a Ferragosto quel giorno e mi sono trovato con dei tre cuccioli di lupo che mi geronzolavano intorno e che non aspettavo, nel senso che il mio lavoro è sempre stato caratterizzato dal fatto di non cercare mai tane, zone dove i lupi riposano, zone dove sono zone per loro intime e non le ho mai cercate, ho sempre atteso sui crinali e quei lupetti sono già con passo da adulto, a pochi mesi si muovevano in fila indiana in mezzo dei ginepri su un crinale a circa 1000-1100 metri ed è stata una bella emozione perché uno di questi lupetti mi è arrivato proprio tanto vicino e io ho trattenuto il respiro, ho fatto la foto e poi lui è proseguito per la sua strada. Sì, c'è da dire anche questo nel senso per le persone secondo me, anch'io quando vado nei boschi ho incontrato dei lupi, però alla fine a meno, non ho mai avuto quella paura perché si guarda entrambe ma poi ognuno fa la sua strada, no? Sì, sì, di solito sì, poi ho avuto racconti di lupi che magari sono disturbati durante i pasti, magari c'è una preda che hanno appunto un die in un cinghiale che hanno mangiato in zone e magari sono un po' più resti ad andarsene o addirittura problemi con chi invece tiene i cani liberi, cani molto liberi seguiti ai quali non è stato neppure insegnato lo stare banalmente vicino al padrone e che inseguono e cacciano tutto quello che vedono e trovano, che a parte che si tratta di un atteggiamento che poi di fatto entra nell'illegalità perché comunque appunto la gestione simile del cane non è accettabile secondo me e quelli in quei casi allora ci possono essere problemi perché finché inseguono una lepre e rischia solo la lepre quando poi si trovano davanti un grosso cinghiale o dei lupi magari in periodo dell'amori a marzo a febbraio le cose possono complicarsi ma per il resto come dici tu anch'io sono mi sono trovato nella stessa situazione nel senso di mi trovo davanti un lupo mi godo al momento lui non mi mostra in nessun modo atteggiamenti aggressivi e scatto una foto e lui sparisce e gran parte degli avvistamenti come questo che appunto stai mostrando sono avvistamenti che sono stati di pochi secondi al massimo pochissimi minuti dove ho avuto malapena al tempo di fare uno scatto per portarmi a casa quel ricordo e quel bel momento sì ma tu comunque vabbè ormai alla fine conoscevi un po quello che era la zona il punto dove dove appostarsi oppure sei andato sempre a sentimento allora il mio lavoro diciamo che tutt'oggi che diciamo che dare una passione a certi mesi diventa anche un lavoro perché porto persone a fare quello che faccio io e nel mio piccolo cerco anche diciamo così tra virgolette di addestrarli a comportarsi in maniera etica attenta perché banalmente meno si disturba gli animali e più è probabile incontrarlo e sul fatto di luoghi che scelgo sono luoghi che in parte mi erano stati insegnati e mostrati come ti dicevo dalla bravissima studiosa ricercatrice laura schenone e in parte sono luoghi che si possono trovare un po in zona in una zona d'italia cioè delle zone aperte qua si vede ad esempio il montaiona bellissimo e suggestivo imposto da lupi per eccellenza in liguria diciamo che si trovano zone aperte zone dove si possono vedere dei segni di presenza come escrementi o orme nella neve e poi lì si aspetta a volte fai un appostamento di un'ora e il lupo arriva e a volte ci torni per sette anni una volta al mese e solo al settimo anno riesci a incontrare i lupi come mi è capitato con una foto di lupi nella neve ad esempio in alta valtrebbia vicino a casa del romano pensa che avevo incontrato un ragazzo proprio sulla iona che aveva passato un fine settimana due tre giorni lì al rifugio del prato mollo alla ricerca dei lupi e poverino non era riuscito in due giorni a vederne uno e e lo strano che rispetto a qua dove un tempo adesso ce n'è un po meno ma un tempo c'erano cinghiali che non ce ne sono più e daini tantissimi di là non ho mai visto un animale selvatico quindi non ho mai capito come i lupi potessero esserci no lì nella nella valdaveto ma diciamo che la valtrebbia dà l'impressione di essere tra le più ricche di fauna perché ci sono diciamo così daini un po ovunque poi in realtà anche dove non c'è il daino ad esempio hai citato la valdaveto la valdaveto è ricca di di caprioli ad esempio nel senso che il capriolo sembra proprio avere una una presenza un po ovunque in italia ormai però in valdaveto sembra davvero trovarsi bene e tant'è vero che ho dedicato anche un libro fotografico le ombre tra i faggi proprio a foto che riguardano caprioli e lupi proprio perché sono due due creature che rappresentano bene anche il rapporto predatore preda dalle nostre parti senza andare a disturbare quei ripetitivi documentari che abbiamo visto da bambini di leoni leoni e di altre sue prede che appunto ci hanno fatto credere che esistano solo sembra quasi che esista solo la savana e da noi lupo il capriolo per me rappresentano bene questo bel rapporto e questo bel esempio di elementi animali selvatici cardine importanti per l'ambiente qua si vede invece uno scorcio di un lupo in valtanaro quindi siamo sulle alpi cunesi e non distanti dalle alpi liguri e siamo a fine inverno e dei lupi si muovono in maniera agile in ambienti davvero complessi e difficili dove un fotografo riesce a stare appostato solo poche ore prima di scappare dal freddo e dove invece i lupi si trovano a proprio agio anche in condizioni appunto meteo difficili anche dovendo affrontare prede complesse come il camoscio a quote elevate e in zone molto ripide e ricche di dirupi e quindi massimo rispetto anche per questi lupi quando dicevo ci sono tanti lupi non ce n'è solo uno questo è un esempio ogni lupo ogni famiglia si adatta un po al territorio a quello che gli offre il territorio questa foto qua rappresenta molto quello che tu stai dicendo che non so quanto era pendente quel monte però li vedi proprio correre giù sì sì era molto ripido e il lupo ma non solo lupo anche altri selvatici ci dimostrano quotidianamente per chi come noi li seguono appassionato e proprio le loro capacità di adattarsi e di vivere in ambienti dove noi ormai non riusciamo più a vivere al massimo ci facciamo una passeggiata o facciamo una un'attività sportiva di poche ore e già me ne accorgevo ai tempi nel 2005 quando ancora non avevo visto un lupo e mi muovevo intorno all'antola e vedevo come le orme di lupi passassero in zone veramente ripide difficili dove io non riuscivo a passare dove loro allargando i polpastrelli delle delle zampe e riuscivano a passare in versanti davvero difficili ghiacciati complessi e suscitavano già all'epoca in me grande rispetto in loro io mi ricordo non so se erano forse era 2008 2009 era andato un incontro che era stato fatto giù al castello della pietra organizzato dal parco e c'era ancora in provincia che adesso mi sfugge il nome sembrava un indiano americano addirittura era il dominio grandissimo era il dominetti era molto esperto di lupi e ci raccontava che avevano messo un collaro a quei tempi a un lupo che faceva spola tra la scotta toscana e le valle della meraviglia comunque giù nel nel cunese alpe marittime diciamo sì dovrebbe trattarsi del mitico ligabue soprannominarono questo lupo che fu trovato nel parmense investito o comunque in in grosse difficoltà fu curato radiocollarato liberato di nuova in natura e questa storia di questo lupo e come dici te che arrivò fino alle alpi marittime e fu anche un ottimo elemento per provare a combattere quel luogo comune quella fake news che tuttora viaggia da barri in barra paese in paese secondo la quale i lupi sarebbero stati liberati da animalisti ecologisti eccetera e la storia di ligabue dimostrò anche se tutt'oggi purtroppo neanche quella storia basta far credere i più complottisti sì m15 ligabue dimostrò che il lupo può camminare banalmente con le sue zampe senza aiuto dell'uomo e colonizzare nuove terre come fa qualsiasi animale selvatico e quindi i lupi qui sono arrivati in maniera naturale dal centro italia a partire dagli anni ottanta e oggi il canale ligure di fatto l'appennino ligure e le alpi liguri sono state poi un canale un'autostrada naturale per far sì che poi i lupi arrivassero anche in altre zone d'italia sull'arco alpino e anche verso la francia e oggi abbiamo dei lupi nostri canis lupus italicus il nostro lupo selvatico è arrivato addirittura in certe zone della germania e della spagna oltre che della francia quindi grandi camminatori che non hanno bisogno di di essere lanciati da paracaduti come raccontano tanti si chiamiamoli personaggi fantasiosi delle nostre dei nostri monti e non solo anche delle nostre città e purtroppo è una fake news che riguarda anche persone che a volte insospettabilmente visto ciò che hanno studiato e qual è il loro percorso appunto non ci si aspetterebbe da loro questa questa punta credenza questo luogo comune invece purtroppo ancora molto diffuso come per esempio c'è sempre la leggenda della coppia di orsi la lince sono ancora leggende che che vagano e per ora appunto sull'orso non ci sono proprio probabilità la lince potrebbe arrivare qualcosa dalla francia ma si stima che sia ancora troppo presto e appunto c'è ancora sì tanta confusione negli avvistamenti e invece ad esempio il gatto selvatico è un animale che in tanti sostenevano che ci fosse in effetti c'era e lo abbiamo dimostrato con i video con le grazie alle videotrappole non abbiamo mai incontrato di persona quindi su certe certe fauna soprattutto i piccoli predatori è probabile che siano in zone dove non ci si aspetta di trovarli ed è appunto un argomento è molto interessante se appena detto parlato di un animale che tu hai scoperto cioè riscoperto e che stai portando avanti la questo tema no quindi stai riportando è stato un primo video casuale nel 2018 e che sono stata è stato subito confermato da da un esperto e poi mi sono fatto aiutar da nicola rebora che come me fotografa i lupi in provincia di genova da da sempre lui più verso ponente e io più verso levante e insieme ci siamo alleati per fare altri filmati di questo elusivo felino e che nulla che vedere con il gatto domestico ma che ha delle caratteristiche specifiche e come la coda d'anelli e una striscia nera sulla spina dorsale per citarne due di queste caratteristiche e abbiamo raccolto tanti filmati dimostrato anche che il gatto selvatico si riproduce e abbiamo raccolto per tre anni testimonianze di una mamma con accompagnati da due piccoli quindi per tre appunto tre famiglie diverse in tre anni di mamma coi piccoli sempre in val trebbia quindi appunto nella sempre qua e quindi per fortuna la fauna si ricrea qui in queste zone anche perché ormai l'uomo ce n'è più pochi quindi hanno tutto lo spazio sì sì di fatto noi qui viviamo a livello naturalistico quasi come fosse un lungo lockdown no nel senso che si è parlato tanto del lockdown e del della natura che torna a respirare senza la nostra pressione in quei mesi drammatici in realtà il nostro introterra è come se vivesse un lockdown da quasi mezzo secolo in certe zone perché appunto l'abbandono e lo spopolamento della montagna ha fatto sì che fauna selvatica tornasse altra fauna selvatica crescesse di numero e quindi in molti purtroppo la vivono questa come una brutta invasione in realtà fa parte del della natura della natura nella anzi della normale evoluzione della natura quando non hanno subisce pressione da parte dell'uomo con grandi tagli di boschi e spari a tutte le specie come capitava invece un tempo e qui diciamo alle branchi dei lupi più o meno da quanti elementi possono essere composti qui in zona c'è ti sei fatto per una un'idea ma allora che io sappia di tu di specifici e sulla specie e studi molto approfonditi sono tanti anni che non ne vengono fatti e in molti con le videotrappole si illudono di sapere molto dei lupi e delle famiglie ma in realtà bisogna sempre ricordarsi che quando davanti una videotrappola passano due tre quattro lupi non è detto che quei lupi siano della zona soprattutto se non si vedono marcare il territorio e non è detto che quelli siano la famiglia al completo perché noi siamo abituati nel luogo comune che il lupo sia sempre branco unito e sempre insieme ma in realtà il lupo può anche dividersi può ritrovarsi poi in delle zone di incontro e rendezvous e quindi non è detto che quando davanti una videotrappola passa uno due tre quattro lupi invece non ce ne siano anche il doppio e hanno territori molto grandi anche di 150 160 200 chilometri quadrati e appunto attraverso una semplice o più videotrappole non si può essere certi di quanto territorio ha una famiglia e quanti lupi ci sono in una famiglia e per quello ci vuole studi approfonditi spesso molto costosi quindi spesso non vengono fatti in maniera continua per quello e io non ho mai preso parte a ricerche di questo tipo perché appunto sono solo un fotografo documentarista e mia passione mi piace questo aspetto quello di fotografare filmare però mi auguro che in futuro si riesca a capire anche appunto a fare delle ricerche che qualcuno le faccia in maniera approfondita perché un tema interessante sì anche perché si passa da dire a meno guarda che ci sono migliaia di lupi centinaia di lupi non sapendo a questo punto la realtà anche perché giustamente almeno da ignorante vedere un lupo qua uno la e così via considerando che loro si muovono molto velocemente e fanno molti chilometri non è detto che sia lo stesso o siano diversi no certo certo quante volte abbiamo sentito la frase ce n'è troppi penso che se ci avessero dato un euro per ogni volta che abbiamo sentito la frase ce n'è troppi adesso saremo chissà dove a godercela spassarcela la il punto è che questi censimenti da bar come li chiamo io non sono non sono molto credibili e tra l'altro la frase ce n'è troppi di per sé un po surreale nel senso che ce n'è troppi rispetto a quando perché rispetto 50 anni fa quando avevamo sterminato tutto e sì ce n'è troppi ma rispetto a un ambiente sano come poteva essere un ambiente per dire prima del medioevo quando ancora non non perseguitavamo in maniera costante gli animali in realtà probabilmente oggi ce ne sono ancora pochi di animali selvatici quindi è tutto basato su un filtro culturale che si basa su delle epoche dove e l'uomo dominava la montagna giustamente per sopravvivere condizionava l'ambiente naturale e sia tagliando boschi sia sparando o catturando quello che trovava e si rispetto a quell'epoca ce n'è troppi ma rispetto a un ambiente sano forse siamo solo all'inizio novità quindi mi dice prima che volevi ristampare il tuo libro fotografico hai in mente di fare qualche qualche serata qualche presentazione ma allora sì grazie e le foto che abbiamo visto intanto sono appunto tratte dalla da questo libro che che stampai circa sei anni fa che andò a ruba in pochi mesi quindi già da anni che voglio ristamparlo si chiama incivili riguarda appunto tutte le foto che ho fatto di rupi in questi anni ed è un titolo un po provocatorio diciamo così perché incivili venivano chiamate anche i nativi americani da da noi colonizzatori bianchi e quindi diciamo che il mio sogno è ristamparlo in questo momento è attivo una raccolta fondi per un documentario che stiamo facendo sugli animali selvatici che vivono nelle case abbandonate e nei paesi abbandonati che si chiama appunto tra le case abbandonate e chiunque può contattarmi o andare su www.produzionidalbasso.com e tra i premi per chi sosterrà il film c'è proprio e anche il libro il libro che in questo momento è in creazione perché rispetto al libro di sei anni fa con mattia parodi vogliamo arricchirlo di di nuove immagini alcune immagini le ho fatte tra l'altro in compagnia di persone che sono venute con me a cercare i lupi e quindi è stato bello perché in quei momenti oltre alla mia esaltazione ho visto anche l'emozione di altri e tra questi ci sono anche persone che magari da tutta una vita sognavano di incontrare un lupo in natura e di godersi il momento bene mi fa piacere e quindi avremo presto delle delle novità sul tuo conto ti dovranno seguire a questo punto anche la pagina facebook e l'altro comunque viene aggiornata continuamente giusto sì cercando su google paolo rossi lupi gatto selvatico perché inserendo solo paolo rossi inescono un po troppi ma cercando paolo rossi lupi gatto selvatico possono trovare tanti dettagli su di me anche di tutti quelli che hanno parlato di noi approfondendo il nostro lavoro come stai facendo gentilmente tu e e quindi sì presentazioni poi del libro una volta che sarà pronto spero dopo l'estate inizieranno sicuramente speriamo anche di passare magari dalle tue parti bene ti aspettiamo volentieri grazie ancora paolo di questo tuo racconto e speriamo di vederci presto a questo punto assolutamente sì grazie in bocca al lupo grazie a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti